Io credo che sia ancora prematuro parlare di questa cosa perché naturalmente sono le federazioni, non siamo noi a convocare gli atleti per le università, quindi tutti i settori universitario. Credo che probabilmente qualche speranza la avremo con le arti marziali, oppure il pugilato, oppure la pesistica, perché diciamo sono gli sport che in questo periodo stanno dando più soddisfazione a livello nazionale ed internazionale. Vedremo che cosa succederà nel prosieguo. L'estate avellinese sarà caratterizzata non solo dalle università, perché come anno ci sarà Sport Days, ritornerà, stavolta però cambierà il palcoscenico, si andrà a Parco Manganelli. Noi iniziamo il primo giugno e terminiamo il 20 giugno. Durante lo Sport Days ci sarà il meeting internazionale di atletica leggera, giunto alla 33esima edizione. Ci stiamo preparando bene perché ci sono già molte risposte da parte di società di organizzazione e via di seguito. Sarà uno sport da essere incentrato sui temi dello sport delle famiglie, dello sport del volontariato, dell'aggregazione e dell'integrazione. Quando riguarda la struttura, la struttura è bellissima. È un bormone di perdita al centro della città, che però ha bisogno di alcune sistemazioni. Nel senso che bisogna procurarsi una staccionata lungo tutto il percorso dell'argine del fiume per evitare pericoli più piccoli, potenziare un po' alcune situazioni. Ma sostanzialmente, ripeto, la struttura è molto bella ed è un invito anche alla cosiddetta area bassa, di cui si parla tanto, però ultimamente non è che si stia facendo molto. Ma sostanzialmente, ripeto.